Benvenuti in Colvetto Razz. Ci troviamo sul punto più alto del Cartizze che è il gran cru del territorio coneliano Valdobiadene. Noi raccogliamo le uve di 72 vigneti esclusivamente di Valdobiadene e di OCG. Oggi vogliamo presentare il QV5, un Valdobiadene ottenuto dalla selezione di 5 vigneti e il QV13, un altro Valdobiadene di OCG ottenuto dalla selezione di 13 vigneti della fascia piedemontana. Si tratta di due Valdobiadene di OCG, uno in versione Extra Brut con 5 grammi litro di residuo zuccherino e il secondo è un Valdobiadene di OCG Extra Dry con 13 grammi litro di residuo zuccherino. L'Extra Brut QV5 si adatta perfettamente ad accompagnare antipasti, soprattutto antipasti di pesce. L'Extra Dry QV13 si presta invece perfettamente all'abbinamento con primi piatti, soprattutto se parliamo di primi piatti primaverili, con erbe spontanee e con verdure. Procediamo alla degustazione perché l'ultima parola aspetta sempre al bicchiere. In questo vino ritroviamo tutte le caratteristiche tipiche del Valdobiadene di OCG. Il profumo del fiore bianco della vite, troviamo il petalo di rosa, troviamo una leggera sensazione di glicine, il fruttato di pesca bianca. Al gusto ritroviamo un'asciuttezza data dalla quantità di zuccheri molto bassa, un indice di rotondità importante che dà morbidezza nonostante l'assenza di zuccheri. Adesso stiamo stappando il Valdobiadene di OCG QV13. Anche in questo caso ritroviamo le sensazioni tipiche e i sentori tipici del Valdobiadene di OCG. Il tenore zuccherino di 13 grammi litro lo pone come un Extra Dry molto asciutto. Troviamo una volgenza di tutto l'arco del palato fino a creare una sensazione di grande cremosità. In tutta la nostra produzione noi cerchiamo equilibrio, armonia ed eleganza perché se coniugate assieme sono la chiave della piacevolezza. Vi aspettiamo qui in Colvetto Razza sulla sommità di questo colle per ammirare il panorama e per degustare i nostri Valdobiadene di OCG.